Oh, è divertente! Oh, dov'è finita? Oh, ora è mia! Ehi, quella è la mia palla, ridammela! La vuoi? Prova a prenderla, forza! Oh, prendila! Preso, perdente! Smettetela! Ehi, fratello, batti il cinque! Gliel'hai fatta vedere! Sono stanca! Aiuto! Tesoro, andrà tutto bene! Non fare nulla! Che si credono di essere! E se fanno di nuovo qualcosa? Forse non andrà male? No, potrebbe andare peggio! Prendi questo, forza! Che succede? Ciao, tesoro! Finalmente ci conosciamo! Wow, che bello! Dove sono quei bulli? Gli faccio vedere io! Per favore, non farlo! E se ti facessero del male? Ci penso io! Io non riparerò niente! La romperà solo! E se tornano i miei genitori? Aiuto! Oh, fantastico! Prendete questo! Che ne dici? Forse dovremmo riparla! Wow, è una figata! Sì, ma servono gli occhi! Oh, è proprio quello che stavo cercando! Ci penso io! Ecco! Oh, si è rotto! Smettila di corrermi intorno! Mi sto arrabbiando! Sono così divertenti! Ho paura! È tutto terribile! Va tutto bene! Non ti preoccupare! Non funzionerà! Guarda dove vai! Perfetto! Non sono un barbecue! Ora sì che va bene! Ora devo dipingerlo! Ecco! Ripassiamo i porti? Anche noi abbiamo dipinto il nostro! Che bello! Ehi! Guardami! Sei così divertente! È venuto benissimo! Oh! Anche la casa ha bisogno di pupille! Che ne dici? Oh, che bello! Meraviglioso! È bellissima! Wow! Che cos'è? Oh! La prendo io! Guarda! È il tuo nuovo ricordo felice! Wow ragazzi! Avete visto? Ho un altro ricordo! Oh! Non c'è tempo per questo! I mobili non si spostano da soli! Non fatemi arrabbiare! Questo è un ottimo posto! Sarà una libreria di ricordi! Wow! Che bello! Meglio metterlo via! Mangiamo un gelato? Ecco qua! Grazie! Lo adoro! Ragazzi! Ne volete uno? Non mi dispiacerebbe! Oh! Dammelo prima che si sciolga! Il mio gelato è rovinato! Questo mi fa arrabbiare tantissimo! Odio quando cola! Ah! Che rabbia! Dammelo! Servirà alla nostra casa! La taglia è sbagliata! Uh! Dobbiamo aggiustarlo! Uh! Sembrano capelli! Uh! Proprio come i miei porte! Ah! E adesso! Lascia fare a me! Oh! È così brutto! Fatto! So come dipingerli! Mi aiuti! Certo! Facciamolo! Wow! Che bella sensazione! Wow! Sono venuti benissimo! I guanti sono la soluzione! Ehi! Vi piace la casa? O il mio gelato! Ops! Mi dispiace! Non arrabbiarti! Oh! Ho un'idea! Giochiamo! Che ne dite dell'ok? Vai Riley! Puoi farcela! Io credo in te! Concentrati! Puoi farcela! Segna un gol! Vai! Provaci! Non te lo farò fare! Pronta? Il mio piede! Sono così arrabbiato! Ops! Che imbarazzo! Colpito! Evviva! Gol! Ottimo lavoro! Sì! Wow! Che figata! Un altro ricordo! Dobbiamo metterlo in libreria! Che bello! Guardate quanto è felice! E ci sono anch'io! Voglio tenerlo! Vai con gli altri! Oh! C'è qualcosa che non va! Chi è quello? Beh! Ciao! Volevo risolvere la questione! O volete giocare a otti? Avete sentito? Chi abbiamo qui? Ehi! Ci sono io! Forse potrete essere amici! Mancato! Che cattivone! Non mi piace! Ehi! Stai indietro! Ti faccio vedere come si fa! Basta dire una parola e ci penso io a lui! La rabbia ha ragione! Sì! Diamogli una lezione! Oh no! Non fatelo! Fermatevi! Forse non interferire! Ma ragazzi! Non va bene così! Facciamolo mentre è distratto! Perfetto! Fagli vedere la tua rabbia! Giusto sì! Perché hanno un martello? Vai! Ehi! Non è giusto! Passi! L'abbiamo colpito! Sì! L'abbiamo preso! Ora abbiamo un altro ricordo! Ma comportarsi così è sbagliato! Oh! Luogo familiare! Oh! A quel bullo! Thomas! Allontanati dalla lavagna! Hai sentito? Ora sei nei guai! Pulisci questo disordine! Ho un'idea! Sarebbero una coppia fantastica! Attenzione! Oh no! Questo dovrebbe funzionare molto meglio! Cosa? Non è a quello che volevo darti! Oh che figura! Non litigheranno più! Forza spugna! Che carina! Ora la casa avrà anche un nasino! Ho un'idea! Per darle la forma avvolgerò la spugna nel tessuto! Ti piace casa? Oh grazie! Wow! Sai parlare! I tuoi occhi sono carinissimi! Sbrigati rabbia! Le emozioni sono difficili da tenere! Ehi ragazzi! Oh che cos'è? Non abbiamo tempo! Mettiamoli sullo scappale! Abbiamo nuovi ricordi! Questo deve finire! Fatevi da parte! Che succede? Non la riconosco! È terribile! È stata colpa della tua cattiva influenza! È colpa sua! No è colpa sua! Tutto sarebbe andato bene se tu non avessi fatto un casino! Non è vero! È colpa sua! Non mentire! Te l'ho detto! Ragazzi! Per favore! Ora basta! Beh! Chi è? In cerca di guai! Fatevi avanti! Tesoro! Sei davvero tu! Ma che ti hanno fatto? Aiuto! Sei solo gelosa del fatto che ora sono figa! Eh sì! Sei molto figa! Però magari divertiti anche un po'! Che dici? Divertirci è per i bambini! Mica per me! Ah! Sei tornata! Oh! Stai benissimo! Non sono d'aiuto! Che c'è che non va, Joy? Mi dispiace! È solo un saluto! Ragazzi, ho un'idea! Penso che questo gioco piacerà a tutti! Dobbiamo solo prepararci! Oh! Lascia che ti aiuti! Sarà meraviglioso! Oh! Semplicemente meraviglioso! Copriamo tutto! Credo di essermi ingarbugliata un po'! Bisogna riuscire! Come faccio a togliermi tutto questo? Non sprecarlo! Attenzione! Oh! Perché mi hai coinvolto? Oh! Aspettate ragazzi! Vi aiuto io! Aspettate un attimo! Ecco qua! Ecco qua! Quasi libero! Meglio che ci pensi io! Avvolgiamo un bordo e tiriamo! Tutto pronto! Tesoro, vieni qui! Abbiamo una sorpresa! Cosa? Così in fretta! Disegniamo! Sono abbastanza brava! È divertente! Non spingere! Ok tesoro! Vuoi unirti a noi? Wow! Certo! Adoro disegnare! Beh! Questo è un posto per te! Che bello! Disegnerò un cucciolo! Ti piace? Mi sono impegnata tantissimo! Oh! Ti piacciono i cani? Dammi un secondo! Oh! Carino! Un nuovo ricordo felice! Mettiamolo qui! Ora sono ispirato! Disegnerò le labbra della casa! Grazie! Oh! Ciao! Cosa? Ancora tu? Hai fatto del male a mio fratello! E ora è pronta a me! Sfida schettata! Tutto qui! Bersagli perfetti! Tocca a me! Prendi questo! Non lo farai con i miei ricordi! Gli hai mancati! Perdente! Ciao! Non è giusto! E i miei ricordi? Le crepe si stanno allargando! Ragazzi aiutatemi! Mettete un like a questo video! Oh! Guarda! I ricordi non stanno tanto bene! Ragazzi! Aiutiamolo a riportare qui i ricordi! Di felici! Wow! Nastro! Oh! Funzionerà! Ora va meglio! Buu! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Non preoccuparti! Davvero! Ti aiuterò io! Devo farmi valere! Sono così arrabbiata! Ma tesoro! Oh no! Un altro ricordo arrabbiato! Ecco! Se ti eserciti sarai in grado di farti valere! Io credo in te! Sì! Hai ragione! Posso farcela! Wow! Ha funzionato! Mettiamola sullo scaffale! Vieni qui! Che ne dici di andare a scuola a divertirci? Ottima idea! Oh! Che succede? Hai il tuo insegnante? Oh! Vedete? Questa è Barb! Capito? E lei sarà all'esame! Io controllerò tutto! E ora? Dov'è la matita viola? Non lo so! Che sciocca! Ne ho abbastanza! Cosa? La mia barba è solo colpa tua! Per favore ci lasci in pace e ne faremo un'altra! Solo un momento! Il tempo scade! Non ce la faremo! Non possiamo fermarci! Questa è la parte sbagliata! Non è Barb! Ci farà a pezzi! Ho fatto quello che potevo! No! Non va bene! Dobbiamo rifarla! Hai bisogno di aiuto? Oh! Sì! Aiutaci ti prego! Lasciate pare a me! Bene ragazze! Vi voglio bene! Aggiungiamo una matita! Wow! Che figata! Che ne pensate? Non è adorabile? Forza Hoppy! Buona fortuna ragazze! Miss Delight! Questa è per lei! Wow! Ancora meglio di quella vecchia! Le mie matite preferite! Che dolcezza! Sono così felice! Oh! Ho un'idea! Questo sarà perfetto per la casa! Cosa? Muoviti! Ci pensiamo noi! Ragazzi! Che state combinando? E perché? Ci sono così tanti dei vostri ricordi! Dovrei essere arrabbiato! È stato lui! Cosa? Ansia! Mi stavi aiutando! Ok! Giochiamo! Dammelo! Ancora un po'! Per favore non farlo! Vattene! Ora sbrigati! Il tuo posto non è lì! Andrà tutto bene! Accendiamolo! Oh sì! No! Rabbia! Fermati! Non interferire! Lascialo andare! Ha funzionato! Prendi questo! Ho dimenticato la lingua! Grazie, bello! Cosa? Oh! Grazie! Anche tu! Sei carino! Ehi! Ciao! Mi sono persa qualcosa? Che bello! Avete fatto un ottimo lavoro! Ehi! Vieni qui! Devo farti vedere una cosa! È urgente! E sbrigati! Cosa? Devo fare la gioia! Tipo così? Hai un aspetto buffo! E ora voi! Oh! Facile! Che vedete? Sì! Ci assomigli proprio! Non è vero! Questo cos'è? Voglio giocare anch'io! Posso unirmi? Sì! Certo! Asia! Riesce a gestirla? Facci vedere! Non so cosa fare! È tutto orribile! Sei identica! È fantastico! Che ne dite di giocare ad hockey? È tutta birra! Divertitevi! Noi abbiamo delle cose da fare! Anche i ricordi hanno bisogno di cuore! Ma certo! Lucidiamoli! Ho fatto un pasticcio! Non cadere! Preso! Non spaventatemi più! Oh! Questo non mi piace! Che succede? Oh no! Ansia! Sei stata tu? Scusa! Non volevo! E adesso come rimediamo? Oh! Che succede alla casa? Ah! 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 Niente panico! Troveremo una soluzione! Puliamoli meglio! Non funziona! Ho un'idea! Calmiamo la casa! Abbracciamola! Stai buona casa! Calmati! Oh! Grazie ragazze! Ero un po' nervosa! I ricordi sono tornati a posto! Ragazzi! Sbrigatevi! I bolli sono tornati a paura! Sono lì! Raleigh! Vieni qui! Ti daremo una bella lezione! Sì! Prendi questo! Non posso occuparmi di tutti! Perdente! Non sono una bancarella! C'è solo un modo! Esci da qui! Cosa è quello? Prendi questo e lasciaci in pace! Sì! Questo è il nostro territorio! Capito? Ti sei messa contro le persone sbagliate! Ora basta! Non finirà bene! Ragazzi! Prendete queste! Anche voi avete bisogno di ricordi felici! Oh! Che carina! Mi sento così bene! Wow! Grazie! Perché non diventiamo amici? Finalmente! Ve l'avevo detto! L'amicizia vince su tutto! Giochiamo! Sono la prima! Evviva! Gol! Ottimo lavoro! Continua così! Ora tocca a me! Facciamo! Uh! Facciamolo! Uh! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Ciao Raleigh! Ciao Abby! Oh! Ora possiamo tornare indietro! Giusto! Ottima idea! Che fine avete fatto? Vi ho aspettato per una vita! Oh ragazzi! Basta! Devo seguire la lezione! Parli in classe? Vuoi guai? No! Sicura? Allora dovresti ascoltarmi! Oh no! Ora nessuno ci disturberà più! Ragazzi no! Aspetta un attimo! Hai dimenticato una regola? Dovete imparare le regole! Niente telefoni! Chi è? Ciao a tutti! Oh la brava insegnante! Ehi! Cos'è successo? Scappiamo! I miei capelli! Non punirci! Non preoccupatevi! Va tutto bene ragazzi! Mi prenderò io cura di voi! Ecco prendi queste! Credo ti staranno bene! Wow! Che figata! Smettetela! Vi metterà tutte F! Allora chi è il primo? Non siate timidi! Per favore non lo faccia! Per favore salvateci! Smettila immediatamente! Posso sistemare tutto? Ecco a te tesoro! Grazie! Lei è la migliore insegnante! Che fastidio! Ce l'ha con me! Bambini non abbiate paura! Non ci farai del male? Ma certo che no! Sorridete! No! Delight mi punirà! Questo vi tirerà su di morale! Chi vuole un giocattolo? Wow! Forte! Lo voglio! Solo voi potete giocarci! Che figata! Ehi! Facciamo la festa del tè! Guardate cosa ha trovato! Wow! Un biliardino! Fantastico! Grazie! Ottimo! E allora non vi disturbo! Attenti al gol! Non succederà! Wow! Sei davvero brava! Evviva! Gol! Che è questo casino? Che disastro! Ora vi faccio vedere! Oh no! Nascondetevi! Fatto! È ora di correre! Ce l'ho fatta! Torna qui! Devo scappare! Sbrighiamoci! Giochiamo! Stop! E adesso dove mi nascondo? Signorina Betty! Che c'è che non va, tesoro? Mr. Light vuole punirci! Non preoccuparti! Ti copro io! Vai nella stanza segreta! Non perdere tempo! Entra! Sbrigati! Grazie, Miss Betty! Wow! Cos'è questo posto? È così bello! Come ho fatto a non vederlo prima? Wow! È fantastico! Adoro questo posto! Grande Dog Day è al sicuro! Ora dobbiamo nascondere le prove! Uh! Cercavi qualcosa? Dove è andato? Sento che è qui! Spostati! Riconosco l'odore! No! Non parlo! Ho un'idea! Guarda là! Wow! Bello! Deve essere una superstar! Oh! Ci è mancato poco! Tesoro! Se n'è andata! Me ne sono occupata io! Stai tranquilla! Oh! Miss Betty! Ciao! Stai bene! Ti ho portato delle caramelle! Divertiti! Che bello! Giochiamo? Wow! Ma certo! Stabilirò un nuovo record! Oh! Vorrei tanto poterlo incontrare il mio principe! Oh! Tu sarai mio! Cosa? Alzati! Oh! Ho paura! Anch'io! Spero non ci metteremo nei guai! Sedetevi! Sì, Mr. Light! Oh! Oh, Miss Delight! La mia sedia è rotta! Su cosa dovrei sedermi? Oh, non preoccuparti! Ci penso io! Ok! Ecco la tua nuova sedia! Siediti! Spero sia comoda! Non è carina! L'ho progettata io stessa! Vieni qui! Ok! È pesante! È anche pungente! Non posso sedermi qui! Puoi entrare? Oh no! Cos'è quella? Miss Delight! Posso stare in piedi? Oh cielo! Tesoro! Non ti agitare! Ci penso io! Spostiamola! Orribile! Che ne dite di questo? Parte! Grande! Siediti! Wow! Grazie, Miss Betty! Allora siete tutti pronti? Ottimo! Cosa? Ancora tu? Miss Betty! Posso uscire? Certo, tesoro! Vai pure! Evviva! Grazie! Oh oh oh! Iniziamo la lezione! Non passeranno mai questo test! Dove pensate di andare? Torna subito! Vogliono saltare la lezione? Non sotto la mia sorveglianza! Vi tengo d'occhio! Ah ah! Ora so dove ti nascondi! È ora di affrontarla, Barb! Aspettami! Sto arrivando! Dovrebbe essere qui! Ma certo! Come ho fatto a non accorgermene? Ora sì che sei nei guai! Sto arrivando! Ah ah! È così divertente! Oh no! Beccata! E ora non potrai sfuggirmi! Aiuto! Ora basta! Distruggerò tutto quanto! Questa scuola non è un parco giochi! Oh! Devo andarmene! Mi hai fatto arrabbiare! Oh! Che fuga fortunata! Non potrai sfuggirmi! Per favore fermati! Ah ah! Pensavi che non ti avrei presa? Sei in punizione! E ora peggio per te! Ah ah! Che cattivona! Oh! Oppi! Sei lì? Non aver paura! Ti libererò! Vai, Betty! Bene! Dovrebbe esserci qualcosa nella mia borsa! Ah ah! Non è abbastanza! Aspettate un attimo! È così che faremo! Ragazzi! Aiutatemi a liberare Oppi! Per favore! Mettete un like a questo video! Vi supplico! Wow! Abbiamo bisogno di qualche altro like! Wow! Ora sì che va meglio! Tutto bene? Mi sbetti! Sono così felice! Grazie! Perché non sei in classe? Vai subito! Ora! Oh no! Non di nuovo! Sai che succede a chi è in ritardo? Schiena dritta! Oh! Sì signora! Eccellente! Correte! Come vuoi! Spero che funzioni! Ecco qua! Questo questo! Attenzione! Ce l'ho fatta! Oh! Credo di essere nei guai! È stato terribile! Ma che compito è? Spero di non essere colpita! Perché sei ancora in piedi! Forza! Forza aiuto! Forza ha detto! Muovetevi! Trappolenti! Oh no! È svenuta! Svegliati! Oh no! Questo non va bene! Alzati! Oh! Che incubo! Ci sono! Questo la farà alzare! Ehi Mr. Light! Guarda chi c'è! Oh! Chi è? Oh! Mr. The Light! Tutto tuo! Vieni qui, amore mio! Questo non me l'aspettavo! Ah! Quando ci incontreremo, tesoro! Ah! Non vedo l'ora che arrivi quel momento, tesorino! Ti amo! Oh! Oh! Una carota! Basta! Basta! Niente trucco! L'avete dimenticato? Ve la siete cercata! Oh no! Ora te lo toglierò dalla faccia! Molto meglio! Che faccia pulita! Ehm... Dov'è la mia faccia? Che giornata! Tesoro! Che è successo? Che incubo! Stai calma! Troverò una soluzione! Grazie, signorina Betty! Stai bene? Grande! Piccoli combina guai! Non lo dimenticherete più! Oh! Mi sono persa qualcosa! Che noia! Ma quando finirà? Cosa? La campanella? Non è possibile! È l'ora della pausa! Volete giocare sporco? Allora ci penso io! Solo F! Ha ha ha! Miss Delight! Perché? Uh! Devo sistemare tutto! Questo non va bene! Spero che non se ne accorda! Anch'io ho un timbro! Oh tesoro! Spero che ti piaccia tormentare i bambini quanto piace a me! Grande! È l'ultimo! Non vedo più niente! L'ho trovato! Oh no! Cos'è questo? Oh no! Miss Delight si arrabbierà! Per favore non farmi del male! Ecco sei finita! Wow! Ci è mancato poco! Non puoi scappare! Delight Shuriken! Prendi questo! Ah ah! Devo nascondermi! Per quanto ancora dovrò sopportare tutto questo? Devo scappare? Fermati! No! Ti prenderò! ci è mancato poco! Oh! Che bella vista! Miss Betty! Siamo qui! Vogliamo fare lezione! Per favore! Ma come posso dire di no? Piantiamo dei fiori, ok? Certo! Piantiamo i nostri lecca lecca! Guardate qua! Eccellente! E non dimentichiamo di annaffiarli! Grazie, Miss Betty! E qualcosa per Miss Delight! Credo sarà contenta! Che figata! E ora annaffiamoli! Cresceranno enormi! Meraviglioso! Ora aspettiamo un po'! Avanti! Guardate! Wow! Che belli! Con questi faremo un bouquet per Miss Delight! Ne sarai entusiasta! Che ne dite? Certo, Miss Betty! Ragazzi, ho un'idea! Guardate! Cos'è? Fantastico! Sono distratti! Venite da me! E ora andiamo via! Oh! Oh! Pi aspetta! Miss Delight! Oh! Ok! Questo è per lei! Cos'è? Oh! Dammi qua! Non voglio la tua elemosina! È così cattiva! Che hai detto? Oh no! Barb! Aiuto! Nasconditi! Ti distruggo! Che succede qui? Che è questo casino? Hanno rotto la mia barba! La pagherete per questo! Non è colpa nostra! Ha iniziato lei! Ne ho abbastanza! Non lascerò correre! E questo farà una brutta fine! Fuori di qui! Oh no! Ma si sta sbagliando! Mi prendo la colpa! Oh! Questo cambia tutto! Mi dispiace, Hoppy! Puoi restare! Ma tu sei licenziata! Dovrai andartene, Betty! Non è giusto! Ha ha! Era ora! Sono sempre qui per lei, Miss Delight! Buona giornata! Addio! Ha ha! Te ne pentirai! Te la farò pagare! Ragazzi, iniziate il test! Poi controllerò! Oh! Questo no! Io ho un foglietto! Ecco la formula! Ehi, Dog Day! Ti tengo d'occhio! Niente trucchi! Ti ho avvertito! Scusa! Non lo farò più! Ops! Devo registrarlo! Oh oh! Mettete via i telefoni! Questa è una violazione! Scusa! Me ne sono dimenticata! Era un regalo! Perché? Ha ha! Che ti serva da lezione, Catnap! Oh! Non ho fatto niente! Ciao a tutti! Oh no! Non lui! Prego! C'è una persona che dovete conoscere! Ciao, bambini! Sono la vostra maestra! Ho dei regalini per voi! Questo è per te! Forte! E questo per te, tesoro! E per te! Posso mangiarlo? Chi verrà alla lavagna? Dog Day? Forse qualcun altro? Va bene! Sai qual è la risposta corretta? Fammi pensare! Psst! È cinque! Aha! So la risposta! È cinque! Cosa? Siediti! Insegnante nuova? Non sono stata io! Oh! È stato spaventoso! Cosa, Barb? Hai ragione! È ora di fare i test! E non pensate di imbrogliare! Questo test è difficile! Non abbiamo studiato questo! Perché a me verrà bocciato! Quale sarà la prima? Ehi, cosa? Miss Delight! Andrà tutto bene! Wow! Che sta succedendo alla penna? Non riesco a fermarla! Sta risolvendo il test da sola! Ma che succede? Sei stata tu? Ma che dici? Non ho fatto niente! No! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Consegniamolo! Cosa? Sono tutti corretti! È impossibile! Prego, uscite! Prendi questo! Oh! Chi è stato? Oh! È ora di andare! Ah! Piccoli meschini! State fermi! Eccoli lì! Vi prenderò! Ehi! Buon divertimento! Ci sto! Chi è con me? Io, per favore! Va bene! Ecco qua! Posso usare la tua mazza? Barb! Oh, certo! Oh, sì! Vieni! Perfetto! Sono pronto! Avanti, tesoro! Ah, colpito! Ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Che squadra! Woo-hoo! Ah! Mi state facendo arrabbiare! È ora di rovinare il loro divertimento! Perfetto! Devo solo prendere la mira e... Oh! Sono stato colpito! Che è stato? Ops! Che figuraccia! Oh! Signorina Delight! Ciao, caro! Non intralciarmi! Oh! Volete vedere una partita vera? Forza, impostori! Datemi la palla! Cosa? Ok, se insisti! Noi crediamo in lei! Forza, puoi farcela, Mr. Light! Non ce la farà! Che c'è? Hai paura? Oh, Mr. Light! Spostati! Non riesco a vedere! Mi stai bloccando la visuale! Oh, no! Evviva! Prendi questo! Bene, bambini, andiamo avanti! Non posso credere che mi abbia battuto! Ma che cos'era? Ehi, sei veramente maleducato! Torna qui! È così carina quando è arrabbiata! Dove sono? Oh, li ha trovati! È ora di affrontarli! E adesso? Nuovo compito! Prendete le matite e fate un collage! Sbrigatevi! Il tempo scorre! Oh, sono così affilate! Ah! Che c'è che non va? Questa Delight è così cattiva! Preparatevi per le F! Ehi, ragazzi! Ho un'idea! Facciamo dei fiori! Evviva! Fantastico! Per prima cosa, tracciamo la sagoma! Ci penso io! E ora ritagliamo! Il mio sarà più bello! Ottimo lavoro! E ora pieghiamo i petali! Ehi! Non dimenticare le foglie! Ottimo! E ora incogliamo! Tieni, signorina Delight! Bravi bambini! Un attimo! Ho dimenticato una cosa! Prendi questi! Bene, Dog Day! Sei così bravo! Fantastico! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Sei stata forte! Ora vi faccio vedere un trucco! Osservate attentamente! Fantastico! Le vogliamo tanto bene! Che schifo! Ehi, Miss Delight! Anch'io ho fatto un collage! Stanno benissimo insieme! Sparisci! Va bene! Facciamo una pausa! Io devo andare! Ciao! Eccomi qui! Dov'è il mio armadietto? Oh, così dolci! Un regalo! Che c'è qui dentro? Vediamo! Oh, quante caramelle! Oh, oh! Caramelle! Mi fanno venire la nausea! Ne vuoi una? Oh, no! Sorpresa! Come ha fatto ad entrare! Che dolce! Siete una coppia? Lasciami in pace! Finalmente sono sola! Oh! Cos'era? Sì! Ce l'abbiamo fatta! Che incubo! Siete stati voi? Oh, no! Ci ha visti! Siete nei guai! Guardate qua! Tesoro, guarda che vestito elegante che ho trovato per te! Beh, grazie! Stai benissimo! Grazie! Che ne dici di un abbraccio? Va bene! Salvatemi! Oh, sono così felice! Ok, arrivederci! Ciao, bellezza! Eccomi qui! Bene, bambini! Chi vuole rispondere? Che sono queste lettere? Io non lo so! È semplice, ragazzi! Pensate! Questa è un'H! Capito? Ah-ah! Allora lo scrivo! Vediamo come te la cavi ora! Ehi! Fermati! Non riesco a controllarla! Qualcuno mi aiuti! Attenzione! Che ne sta succedendo? Ah-ah! Peggio per te! Prego! Oh, ma che succede? Ora basta! Basta così! Scusate! Non so cosa mi sia preso! Non è da lei! Lei è buona! Ehi, non parlatemi così! Vai via! Non esiste! Proteggeremo la signorina Delight! Oh-oh! La faccenda si fa interessante! Evviva! È ora di andare a casa! Yeah! Tommi! Uh-oh! Tommi! Viva!